Buonasera a tutti, eccomi qua, sono sempre io Campanaro67, perdonate la voce che è diventata ancora più segnata, ma la giornata di oggi è iniziata nel peggior dei modi, con una scossa che penso avete sentito tutti alle 7.41 che ormai si è abituati a una psicosi da scosse di terremoto dal 24 agosto, qui ogni tanto ne sentiamo una, il 26 ottobre, una alle 19.11, una fortissima alle 21.18 e una appunto questa mattina, ma è anche il primo giorno oggi del ritorno all'ora solare e come avete visto i precedenti video hanno messo da quest'anno praticamente il 3 ottobre sono arrivate le nuove campane del Duomo di Senegallia e questa sera, anzi questa mattina volevamo riprendere io e Francesco il suono delle campane per la messa delle cresime, però purtroppo come potete ben immaginare abbiamo avuto tante altre cose, agitazione, pensieri, paure e via dicendo, mi sono ridotto praticamente questa sera come primo video di ritorno all'ora, scusate, all'ora solare a riprendere praticamente il suono dell'Ave Maria Serale che appunto adesso finalmente è completa, ora quindi praticamente mi sposto, mi metto in direzione Campanile, lasciamo questa bellissima fazzata del Duomo di Senegallia e vado appunto dall'altra parte per farvi sentire ora a Senegallia come suona l'Ave Maria Serale delle nuove campane in accordo con le preesistenti, dopo vi dico tutti gli altri dati, a più tardi! Eccomi qua raga, sono le 18.58 quindi mancano due minuti e questo suono di campane inedito l'accordo per il Duomo di Senegallia con l'aggiunta delle due nuove campane fuse dalla Fonderia a Lanconi di Ripalta Cremasca e l'accordo della ex seconda ora diventata terza, alleteranno praticamente tutti i tramonti, tutte le fine giornata, eccola, eccola! Grazie a tutti! Bellissima! Bellissima! Qualcuno, un mio carissimo amico aveva detto Davide vai a sentire la nuova musica, la melodia che suona alle 19, è una poesia? Beh va bene, qualcuno sicuramente io appunto già la conosco bene ma certo che è una novità assoluta, bene per il momento è tutto dal Duomo di Senegallia, vi saluto e magari ci rivediamo domani, trascorrete speriamo, me lo dico anche io stesso, una notte serena e arrivederci allora a domani quando riprenderò il suono della suonata prefestiva per la festività dei Santi. Buona serata a tutti, cerchiamo di avere coraggio e speriamo che i movimenti del terremoto non siano troppo frequenti veramente, buona serata a tutti, ciao a tutti da Campanaro 67.